Ramella era da un po' di tempo che non si vedeva più una partita del genere sicuramente tutte e due le squadre hanno cercato di dare spettacolo l'Elempoli giocando palla a rosso terra invece il Varese mettendoci qualcosa in più a livello di grinta che non c'era da un pezzo poi gli esterni hanno fatto il suo lavoro ha giocato in una formazione offensiva e gli ha dato ragione all'allenatore sono contento perché sia gli esterni che Geneto Pereira è tornato dietro la punta, ha fatto il loro dovere e ha subito anche poco sinceramente perché solo due o tre azioni hanno avuto la traversa di Macarone quindi diciamo che è stato ritrovato l'entusiasmo e speriamo che arrivi fino alla fine L'ultima domanda, la classifica è un po' bugiarda secondo me l'Elempoli un po' più su il Varese dove si trova il sabbia mobile e una punta del genere un po' bugiarda i risultati no però vediamo che l'Elempoli tutte le partite le ha giocate e ha giocato anche fino adesso non ha mai buttato via il pallone quindi merito l'Elempoli però il Varese oggi ha meritato di vincere e speriamo che questa vittoria sia seguita da un'altra buona prestazione contro il Palermo ok grazie ciao